Sono in tanti in questi giorni a lanciare da più parti appelli al buonsenso e al rispetto delle regole. I medici delle strutture ospedaliere e anche gli infermieri lanciano il loro urlo disperato per non vanificare con comportamenti sconsiderati e superficiali il loro duro lavoro, stremante e senza tregua al quale sono sottoposti e al quale non si sottraggono. Ha fatto il giro del mondo la foto della dottoressa milanese accasciata, stremata sul suo computer dopo un massacrante turno di lavoro in corsia. Queste sono le condizioni in cui questi moderni eroi stanno vivendo negli ospedali e nelle strutture sanitarie, comprese anche quelle del nostro territorio. Ma il primo fronte, la prima linea di questa battaglia, la si vive anche sul territorio e il parallelismo con la guerra di trincea, credetemi, non è affatto forzoso. I medici di base spesso affrontano a mani nude l'emergenza virus. Speriamo e ci auguriamo che la popolazione si renda conto di quello che sta succedendo. Noi siamo l'altra parte, l'altra faccia del problema, però è evidente che stiamo, se volessimo fare una fotografia del momento, ci rendiamo conto che da un lato abbiamo una pandemia, quindi un virus che si diffonde molto, molto rapidamente, un virus che dal punto di vista medico conosciamo poco, non conosciamo perché è un nuovo virus, però ci stiamo rendendo conto che mentre in parecchi soggetti dà una sintomatologia estremamente lieve, in altri pazienti e non solo i defedati o con pluripatologie, ci sono dei quadri che sono molto aggressivi, tanto da dover ricorrere alle cure anche in ambito rianimatorio. dall'altro quindi c'è questa pandemia che si diffonde e allo stesso tempo abbiamo un servizio sanitario che è già quasi allo stremo. Ma non si può andare avanti così perché se noi non riusciamo a fermare sul territorio questa pandemia, come diceva il collega, tutto questo si rivolgerà contro gli ospedali, nel senso che se noi arrivano a dei pazienti a livello estremamente grave, non ci sarà più posto per le rianimazioni, le rianimazioni stanno finendo, le terapie intensive stanno finendo. Noi dobbiamo fare lo screen, dobbiamo isolare, dobbiamo cercare di tenere lontani quelli che supponiamo, ma non possiamo fare niente. Abbiamo solamente il nostro buonsenso, le mani, il fonendo e questo è il saturimetro. Per vedere la saturazione d'ossigeno, per vedere chi comincia a soffrire, mandiamo in ospedale. Purtroppo si vedono poca serietà, ma da parte dei pazienti, non credo di mettere dei pazienti, perché? Perché pur avendo tante disposizioni, non si attengono a queste disposizioni. Facendo visi domiciliari, specialmente nel nostro territorio che è alla periferia della città, molti, diciamo, l'hanno presa un po' alla leggera, troppo alla leggera, non è un dramma, non è una cosa drammatica che succede, però se noi non lavoriamo insieme, in sinergia, medici, pazienti, politici locali, non riusciamo a risolvere il problema e perlomeno non riusciamo a ridurre i danni che questo ci farà. Ognuno ha a casa un paziente che ha una criticità, può essere l'anziano, può essere un portatore di handicap, potrebbe essere uno che ha delle patologie croniche abbastanza serie. Se noi pensiamo solo a chi abbiamo a casa, dovremmo subito, immediatamente fare un atto di coscienza nostro personale e dire mi sto comportando bene rispetto alle disposizioni che ci sono date, quindi il mio è solo un appello dal punto di vista civico. Combattiamo, come ho detto i miei colleghi, contro un qualcosa che noi non conosciamo bene, per cui quando non lo conosci bene l'importante è non venirne a contatto. Quindi l'appello, l'appello propriamente di cuore è che ognuno stia alla propria casa, esca proprio nel bisogno assoluto, per il resto la medicina sta funzionando bene e se noi ci comportiamo in questa maniera riusciamo anche a liberare posti in rianimazione perché parecchi di questi pazienti sicuramente non arriveranno là. Quindi l'appello definitivo è stiamo a casa, aspettiamo, tutto si risolve, niente paura, però con tanta serietà e senso civico.